Tenuto direttamente dalla direttrice tecnica della sezione olimpica Francesca Torchia e da una delle sue collaboratrici Ada Quartalone, si è svolto ieri nella palestra dell'Istituto Salvatore Quasimodo di Gela lo stage collegiale di ginnastica ritmica di iniziativa e propedeutica in vista del prossimo quadriennio. Esercizi sono stati eseguiti agli attrezzi cerchio, palla, fune, nastro e clavette e sono state apportate delle modifiche in merito alle ultime modalità di allenamento e in funzione dei nuovi programmi. C'è una sezione gold d'alta specializzazione, una sezione silver che abbraccia la vecchia ginnastica per tutti e la ginnastica promozionale. I programmi comunque nonostante siano molto articolati sono comunque molto complessi e richiedono un'ottima preparazione tecnica alle spalle. Io sono molto contenta perché negli anni ho visto il gruppo della Ginnastic Club comunque crescere molto, evolversi nel tempo. La prima volta che siamo venute qui era il 2008, i progressi sono tanti, anche il numero delle ginnaste che prendono parte dell'attività di base di ginnastica ritmica è cresciuto molto e di questo siamo molto contenti. Un momento di grande formazione e di stimolo certamente anche per noi tecnici paradossalmente. Venire qui a Gela, alla Ginnastic Club dal professore Walter Micicchio, ogni volta un'esperienza bellissima, un team affiatato, un team che lavora in maniera molto seria. Lo abbiamo conosciuto nel tempo, questa era ormai la terza esperienza che facciamo qui da voi. Questo momento formativo è certamente il momento culminante di un percorso iniziato già da parecchio tempo. L'obiettivo è svolgere gli allenamenti sempre secondo le migliori tecniche indicate dalla Federazione Nazionale e la partecipazione al campionato di specialità e alla Serie B. L'istruttrice che ha partecipato al corso è Ilenia Cosenza. I corsi sono stati diretti da Walter Micicchio. Anche in vista della gara che abbiamo vinto l'anno scorso, dove siamo arrivati sul gradino più alto del podio siciliano, questo ci ha permesso di capire che il lavoro che stiamo facendo era quello corretto. Ecco perché oggi siamo qua all'apertura del quaderno olimbico con le nuove tecniche che la Federazione Ginnastica ci impone di fare. E quindi contentissimi di fare questo stage dove in queste due giornate avremo modo di poter praticare e attivare tutto quello che è possibile per migliorare le ginnaste.